E buonasera Maurizio, eccoci qua. Buonasera Fabio. Grazie Maurizio. Buonasera a Filippa, al pubblico che c'è, buonasera. Allora, dalla prima puntata di Bontalloro sono passati 45 anni Maurizio. Cioè tu sei l'inventore del talk show. Senza di te io non sarei qua e non avremmo neanche capito che quello che stiamo facendo si chiama talk show. Ma manco io lo sapevo. Ti racconto, quando io feci la prima puntata di Bontalloro, era fra il film del lunedì di Rai 1 e il telegiornale della notte. Mi fece fare quel programma un genio della televisione che è Angelo Cuglielmi. Era il vice direttore di Rai 1, il direttore era Mimmo Scarano. L'indomani chiamai col telefono a gettoni da Vanni, un bar vicino alla lei. Mimmo Scarano mi disse hai fatto 6 milioni e mezzo d'ascolto. Non c'era la concorrenza. E io rimasi stupito. Poi mi informai e mi hanno detto hai fatto un talk show. Io non sapevo che era un talk show. Chiamai il critico del paese Sera, che si chiamava Cipriani. Mi pare si diceva ma che è il talk show? E mi disse uno show di parola. Quindi è nato nella più assoluta inconsapevolezza. Sono 45 anni e tanto. Calcola che sono 39 anni che faccio il Maurizio Costanzo Show quest'anno. Così l'anno prossimo festeggiamo i 40 anni. Sono Costanzo... Tu, Guglielmi... Mi avvio di di... No, Guglielmi, dico, era... Insomma, è un genio. È stato mio direttore a lei 3. Assoluto. È un genio assoluto. Insomma, quando la televisione aveva un significato profondo e decise di metterti in una fascia oraria, quella che hai detto tu, dopo il 22 e 40, insomma, in quella che oggi è l'inizio della... Il 22 e 40. Che non esisteva. Io ero convinto che... Io ero convinto che non ci fosse nessuno all'ascolto. E certo. Perché pensavo, dopo il film vanno a dormire. E invece è successo quello che è successo. E la seconda puntata, sai, la seconda puntata, sai quanto fece? No. 11 milioni. Pazzesco. E io me ne resi conto perché mi guardavano per strada. E io dicevo che ci avranno da guardare. Siccome... Ti ho interrotto. Tu stai dicendo l'anno prossimo 40 anni del Maurizio Costanzo Show e sono... E poi io sono interrotto. E... E sono... Quest'anno, quando ricomincio, sono 4 mila... No. Sì. 4 mila e 500 puntate. Beh, vabbè. Del Costanzo Show. Poi parliamo di un fattore che a me interessa molto a proposito di queste puntate. Ma io vorrei far vedere al pubblico quello che siamo riusciti a trovare di bontalloro. Perché come forse sai, la prima puntata non si trova più. Lo sai che c'è stato un incendio. Sì, me l'hanno detto. Sì, me l'hanno detto. C'è stato un incendio. No, vabbè. Vabbè. C'è stato un incendio nel quale si sono perse molte cose. L'avrà rubata qualche invidioso. Può anche essere. Noi vogliamo farvi vedere allora questa sintesi di quello che fu il primo talk show della storia della televisione italiana inventato da Maurizio Costanzo. Bontalloro 1976. E la tecnica? Quanto può essere stata? Ma io credo nella tecnica. Ho sempre detto che il teatro si confina con l'arte ma è soprattutto un artigianato. Amanda Lear, Eugenio Scalfa, Niki Lauda, Anita, ecco. Berg, Johnny, Dorelli. Il treno che teme di aver perso. E non aver peccato veramente i fini in fondo. Quindi il privato è privatissimo? Eh, il privato è privatissimo. Si considera la regina o la regina madre della canzone? Ma io non mi sono mai considerata mai nessuna regina. Il sogno mio era di entrare alla radio a fare l'annunciatore. Io ho l'impressione che volessi fare soltanto quello che faccio adesso. Io sognavo di fare la radio. Scusa, perché ti vesti così? Per fare politica, Presidente, è proprio necessario andare talvolta in conflitto con la propria coscienza? Ma io credo che in conflitto con la propria coscienza non si si debba andare mai né in politica né fuori. La cosa incredibile è che Guglielo mi disse se hai un'idea. Io gli ho detto ma l'idea è mettere due persone note e uno sconosciuto però poi gli dissi pure ma chi è che fa le domande? E Guglielo mi disse ma falle te e io gli dissi ma stai sicuro? Facemmo una prova facemmo una prova a luglio per fortuna andò bene e poi partimmo mi pare ad ottobre ma è stata un'esperienza clamorosa perché io ti giuro quando entrai a Via Teulada e vivi Andreotti seduto già a Bontalloro pensai a Noschese che fosse Noschese che faceva l'imitazione di Andreotti Il più grande imitatore della storia della televisione Ma tra l'altro Andreotti fu la prima volta di un premier in tv Sì, era presidente del consiglio Sì In un'altra in un'altra in un'altra d'ammissione lui mi confidò di aver fatto la dichiarazione d'amore alla moglie al cimitero Ma è vero? La ricordo E un'altra volta mi disse Mi disse Sa che due miei compagni di classe al tasso di Roma sono diventati cardinali Pausa Hanno fatto carriera loro E io gli dissi perché lei è disoccupata era presidente del consiglio E hanno fatto carriera i cardinali Senti Ma come ti era venuta in mente l'idea di far parlare le parole? Ma non sapevo fare altro Fabio Io facevo l'autore avevo fatto dal 70 al 74 la radio tutti i giorni quindi con buon pomeriggio io potevo fare affidamento solo sulle parole e su una scelta e su una scelta tranquillità dei brutti davanti alla telecamera cioè io non avevo il problema te ne sono grato di piacere capito? te ne sono grato ho detto far parlare ma volevo dire far vedere le parole naturalmente far vedere le parole tu hai intervistato Totò io Totò però l'ho intervistato come giornalista a casa sua non davanti alle telecamere però vale lo stesso cioè e con Totò nacque una meravigliosa amicizia perché era il momento degli urlatori e lui non capiva che erano gli urlatori quella era la fotografia di Totò e poi una volta lui mi raccontò che era andato a casa sua a Ninetto Davoli per parlare di uccellacci uccellini Pasolini e quando era uscito lui col battipanne aveva battuto il divano poi io lo chiamai durante uccellacci uccellini e gli disse il principe come si trova con Pasolini e lui mi disse noi siamo come i tassisti andiamo dove il cliente vuole non si rese conto che stava facendo un capolavoro con Pasolini ecco però Totò che vuoi io li so in memoria i film di Totò dico una cosa brutta hai intervistato anche Trump io ho intervistato anche Trump non sono mai tranquilli ecco però quando l'ho intervistato io non era presidente degli Stati Uniti no no ma la domanda era di che colore aveva i capelli di che colore li aveva volevo sapere di quel colore biondo lì quello sempre quello sì 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 mi ricordo solo che la Trump Hour aveva delle guardie del corpo che ti facevano una perquisizione mostruosa non era antipatico no beh non era antipatico fallo pure antipatico no dico sarebbe apposta tu hai detto prima 11 milioni di ascolto la seconda puntata di Bontalloro oggi ci sono oggi ci sono 11 milioni di talk show perché costano poco è vero secondo te sono un po' troppi cioè stanno si sta riducendo l'inventiva un po' sì però io sarà che mi piace il talk show io finisce che un po' di talk show altrui lo guardo sempre anche tu fai un talk show io ti guardo sempre ti posso citare a memoria no no non farlo pezzi tuoi no ma a questo proposito voglio dire a tutti sì aia che molti anni fa Fabio Fazio conduceva a quelli che il calcio sì ebbe la cortesia di invitarmi e io in quell'occasione dissi una cosa che lo sport fa male sì è vero che quando uno va a sciare si rompe le gambe eccetera ma ma che Fabio Fazio sia bravo io l'ho conosciuto come imitatore come no veniva al Costanzo Show ed era un giovane straordinario imitatore qua dico ufficialmente mi faccio un po' da nemici che oggi come oggi Fabio Fazio è e rimane più bravo bene grazie Maurizio però io adesso non so di che colore però per fortuna ti ringrazio sei molto gentile questo discorso mi porta a farti un'altra domanda così mi svio da me e dalla tua cortesia tu ti ricordi tutto cioè sai che un problema per esempio del talk per me io trovo che il talk show sia un genere meraviglioso perché cambia tutti i giorni il talk show racconta la vita racconta quello che succede quindi non c'è mai una settimana uguale all'altra una puntata uguale all'altra si potrebbe no 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 è come stare al davanzare della finestra e guardare la vita che passa sotto insomma e commentarla ma tu ti ricordi quelli che hai intervistato io non mi ricordo niente per esempio tu invece ti ricordi tutto ma io mi ricordo tutto perché sono anziano tu sei ancora giovane quindi puoi vivere di futuro ma insomma io vivo più di passato ecco speriamo senti tu hai intervistato milioni di persone e c'è stato un momento storico per chi fa il talk show in cui tu sei andato intervistato da David Letterman che è considerato il l'encorman è il talk show più prestigioso di sempre tutti cercano cerchiamo di ispirarci a Letterman sbagliando ma diciamo una cosa di Letterman importante che lui ha aveva adesso ha smesso aveva il gusto della conversazione cioè non erano interviste ma conversazioni liberi tu ci sei andato nel 1984 è il talk show più famoso del mondo e avete fatto un gemellaggio e noi abbiamo le immagini di quel momento che ti mostro e poi me le racconti ah che bello che bello vai welcome to Maurizio Costanzo buonasera lo show è un'ora e mezzo lo show dura due ore sì un'ora e mezzo due ore che va in onda da tre anni adesso alle 20 e 25 stasera una grande richiesta da parte del pubblico faremo di nuovo cateva e roba da una torre di cinque piani vuole sapere se pensi che questo è il tipo di cose che avranno successo in Italia ma penso di sì noi abbiamo molte anguri anche noi in Italia quindi penso che possa venire bene questo tipo all'angurio all right now Maurizio it's time to sign the accord we are now officially the sister show di Maurizio Costanzo che invidia che invidia che bel ricordo che invidia ma sai ho imparato alcune cose c'era pubblico no? qua lì a Letterman e c'era un inserviente fuori dalla porta che diceva quello spettatore là quell'altro là allora mi informai allora quelli inquadrabili li mettevano da una parte quelli orrendi li mettevano da un'altra parte per non essere inquadrati e poi ho imparato dai talk show americani una cosa che poi ho copiato avere l'orchestra Johnny Carson show aveva l'orchestra lì ho copiai e mi si Demo Morselli al Costanzo show certo e Bracardi ancora prima certo certo e Bracardi certo assolutamente senti ma dimmi dimmi ma che bello che mi hai fatto rivedere le lettere ma che ce l'ha scritto in quel in quell'accordo di gemellaggio vi siete più rivisti dopo? è che lui sarebbe venuto a una trasmissione mia e ci siamo collegati ok e poi poi lui si è rotto le palle di fare questo mestiere e se n'è andato a vivere in campagna poi non so se è tornato ma quando andai io devi sapere io ho fatto tre puntate del Costanzo show a New York al Madison Square Garden per gli italiani in America e in quel forse in quell'occasione non lo so perché forse in quegli anni poi andai da Letterman beh bello bellissimo senti Maurizio una grande emozione eh lo credo ma tu volevo dire una cosa tu hai mai pensato di fare politica tu invece per esempio no no mai mai me l'hanno offerto alcune volte ma io ho detto sempre no perché sai a me l'idea che una volta mi hanno proposto di essere candidato sindaco di Roma a me l'idea che l'avversario mi riempiva di insulti con i manifesti ho detto ma chi me lo fa a fare e allora no 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 ma siccome ho visto la campanella vicino sul tavolino pensavo fosse un segno capito del sai no no assolutamente no pensavo ti avesse non è quella di Conte no pensavo fosse quella non è quella che mi ha passato Conte ieri pensavo quella va bene no no basta va bene no 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 tra l'altro a Maurizio Costanzo la quota 100 è il caso di dire fa un baffo perché Maurizio sono 65 anni di carriera 65 tra l'altro è chiaro che il giornalista lo volevi fare da sempre no questo è evidente lo volevo fare da bambino sì e ho scoperto io non ho faticato perché quello volevo fare ecco e ho scoperto che hai fatto anche l'inviato al giro del Belgio senza esserci mai stato non ci sei ma allora ti spiego io facevo il volontariato al paese sera eh capo servizio mi misero allo sport sì capo servizio dello sport era Antonio Ghirelli che è stato un grande resocontista sportivo sì c'era il giro del Belgio di ciclismo lui disse seguilo te guarda te agenzie e mi firmò dal nostro inviato Maurizio Costanze Maurizio Costanze alla francese Maurizio Costanze come Simenon hai fatto un nome alla Simenon una cosa alla Simenon sì lui dava le agenzie e io raccontavo la tappa senti Fabio dimmi che belli quei periodi eh mamma mia ma guarda ma ti dobbiamo tutti tantissimo tra l'altro Simenon eh conta molto che so che insomma ci accomuna questa passione eh forte per per Simenon e per Magret in particolare io amo molto Simenon lo so ce l'avevamo detti una volta in una trasmissione radiofonica insieme e eh tu hai capito che Maria poteva fare televisione dopo che lei ti aveva fatto il riassunto di un Simenon che le avevi dato da leggere sì esattamente quindi il provino noi stavamo già insieme noi stavamo già insieme e c'era la possibilità che lei facesse televisione io per allenamento sì gli diedi da leggere un libro di Magret sì di Simenon e gli disse fammi il riassunto lei mi fece il riassunto e me lo disse e io capì che poteva fare televisione non mi sbagliavo eh no no per niente senti Maurizio a proposito chissà oggi eh che? no dico Maria chissà oggi San Valentino dico chissà no? ah San Valentino sì ti sarai ricordato lo sono detto stamattina no ma ti sarai ricordato San Valentino ci ho ridiciamo stasera sì ti sarai ricordato ma sai io ma come io mi sono ricordato ma io sono sposato quattro volte sì però l'unica con il quale ho fatto le nozze d'argento è stata lei sì appunto dico qui ti sarai ricordato no? sì io sì io l'ho detto ieri sera per non sbagliare ieri sera ieri sera non vale secondo me secondo me non vale eh vabbè uguale non lo so ma sì vabbè dai bisogna chiedere a lei eh eh senti mandiamo queste immagini dedicate alla tua carriera e poi c'è un piccolo pensiero per te prego eh permette io sono Maurizio Costanzo con questi scricchioli serviti dalla sedia comincia acquario bellissima gente questa sera al grande Italia innanzitutto perché si chiama Maurizio Costanzo perché io mi chiamo così prendiamo la luce per libero grafico grazie a voi che ci seguite ormai da tanti anni tu sei un ragazzo tu sei un ragazzo caro Maurizio sì va alla prossima sigla e quando ci chiedono sempre perché avete messo l'acquario io lo dissi la prima volta è in omaggio all'acquario la trasmissione di Maurizio Costanzo all'acquario ma sai ti ringrazio che mi hai fatto rivedere Falcone quando Giovanni Falcone era ospite al Costanzo Show quello fu un momento storico è sempre è un momento storico io ho la fotografia di Falcone al Costanzo Show nel mio studio dove lavoro sempre in ufficio a Roma perché è una mia memoria è un mio protettore ecco quella fu un'esperienza che cambiò la storia della televisione e il tuo impegno contro la mafia ha cambiato anche la storia della tua vita insomma dopo l'attentato un po' sì un po' dopo l'attentato senti Maurizio sei Fabio prego dimmi dimmi no pensavo quando vedevo tutto il repertorio che avevi tirato fuori che te portavi avanti per il giorno e devi fare l'ecrologio capito no invece bisogna farlo è scaramante bisogna farlo bisogna farlo prima così non si fa capito così si rimane si rimane i celebrativi allunghano la vita allunghano la vita senti Maurizio va bene volevo farti vedere a proposito guarda scopo ecco protettivo volevo farti vedere la foto di un santo col quale ti volevo salutare ce l'abbiamo il santo che avevo preso da mostrare a Maurizio che è stato ecco poco fa vedi questo sai chi è Maurizio no è San Biagio San Biagio si festeggia il 3 febbraio quindi è un po' passato però da tradizione milanese via Milano San Biagio cioè se a San Biagio tu mangi il panettone avanzato ti protegge per tutto l'anno dal mal di gola tu hai ancora del panettone avanzato no lo cerco no perché io siccome lo cerco siccome Maria non c'è per ringraziarti ti ho fatto fare un panettone da 5 chili che ti mando di nascosto grazie mandamelo pure con l'immagine di San Biagio vale per più assolutamente Maurizio Costanzo grazie Maurizio buonanotte grazie di cuore grazie a te saluti a Maria grazie spero di dirti presto a prestissimo a quando vuoi grazie a te